In più di 30 città italiane l'organizzazione Salva Ciclisti ha organizzato una serie di manifestazioni contro le morti per la strada. A Roma le bici sono arrivate davanti al Quirinale e a sorpresa una delegazione è stata ricevuta. C'era Matteo parlato. Perché questa manifestazione? Perché ci sono troppi morti in strada sia tra i ciclisti sia tra gli altri utenti della strada. Il traffico è diventato una bestia feroce che deve essere fermata e ricondotta a più umili consigli. Noi adesso saliremo al Quirinale per consegnare una lettera di richiesta di intervento al Presidente della Repubblica perché è la massima istituzione di questa Italia disperata che circola malissimo e fa morti in strada. Giulio Cazzella, consigliere affari interni, che ha assicurato il massimo impegno del Presidente per una moda della situation su tutte le amministrazioni possibili di questo Paese. È un problema che viene molto sentito secondo il consigliere da parte del Presidente della Repubblica. Perché avete messo queste candele? È stato un simbolo per tutti i morti sulle nostre strade. Lo sapete che è la prima volta che la Saga della Repubblica che non vengono messe le candele in questa piazza? Beh, è un buon momento che abbiamo fatto noi, dato che domenica scorsa è morto una ragazza e vogliamo evitare che ne vogliano altre. E' questo il motivo. Infatti non è a caso che c'è un cartello scritto basta sangue sulle strade. Adesso lo spegniamo perché siamo anche per il decaro urbano e le leviamo tutte. Davvero sacrosanto quello che dicono questi ragazzi. Grazie. Grazie.